...in area, così infatti avviene, in ecro, sottotitoli di testa, il vento a gol! Non ha il vantaggio! Non ha il vantaggio! Ancora l'Ivizio ha deciso, fino a questo momento, il gol di L'Ivizio quando siamo al dodicesimo delle secondarie. Viste un contrato, Bertani! Attenzione, incontro a piede Bertani, incontro a piede Bertani! Sulla sottotitoli di Bertani, gol! Sulla sottotitoli di Bertani, incontro a piede Bertani! E ho guardato dentro casa tua, e ho capito che era una follia, avere pensato che fosse soltanto mia. E ho cercato di dimenticare, di non guardare. E ho guardato la televisione, e mi è venuta come l'impressione, che mi stessero rubando il tempo e che tu, che tu mi rubi l'amore. E poi ho camminato tanto e fuori c'era un gran rumore, e non ho più pensato a tutte queste cose. E ho guardato dentro un'emozione, e ho visto dentro tanto amore, e ho capito perché non si comanda al cuore. E ho guardato dentro un'emozione, senza un'emozione, senza un'emozione, senza un'emozione, senza un'emozione. E ho guardato dentro un'emozione, senza un'emozione, senza un'emozione, senza un'emozione. Mi è venuta come l'emozione, che mi stessero rubando il tempo e che tu, che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole, che non ho più pensato a tutte queste cose. E va bene così, senza parole. E va bene così, senza parole.